E ciao a tutti amici sono sempre io e benvenuti in questo nuovo episodio di Going Medieval Allora, dove ci siamo lasciati nello scorso episodio? Ci siamo lasciati con l'espansione, grazie salva proprio ora Con l'espansione di questa zona che è la nostra nuova sala comune Nel sottosuolo, in modo tale da poter costruire una cantina Si spera molto più fredda rispetto all'altra Per mettere da parte tutto il cibo pronto In modo tale che praticamente i nostri coloni possano scendere di sotto e andare a mangiare qua sopra Molto semplice Adesso, come potete vedere, stanno per costruire le scale Dopo che ho dovuto abbattere praticamente tutti i muri qua a fianco È stato un lavoraccio, però va fatto Stessa cosa invece riguarda le strade E come potete vedere, ci sono molte strade Diciamo che questa qua è giusto un abbozzo Vorrei poterlo portare avanti durante questa puntata Se riuscissimo a fare già tutte queste cose potremmo pensare poi di espandere la nostra libreria Cioè rifare la nostra libreria E magari spostarci poi per chiudere sulla sezione difesa a sud Sostenendo che questo sia a sud E questo penso sia l'obiettivo di oggi Come vedete qua ci si è delineato un grande spazio E punto proprio ad utilizzarlo Allora, non penso ci voglia tanto per fare le scale Quindi non me ne curo neanche tanto Ma voglio dare un po' più di priorità a questa zona Perché questa zona qua è davvero davvero importante Tant'è che, guardate un po', andiamo subito a far rifare le fondamenta E a questo punto poi bisogna soltanto scavare di sotto Cosa che faccio fare subito Perché i miei scavatori sono già praticamente pronti Ho bene una nuova persona Dopo che ahimè nello scorso episodio abbiamo perso Rodrik Eh, yes, vieni qua Bo, 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 beorn Beorn, sì, ciao beorn E stanno anche già scavando di sotto Fantastico Qual è l'interno qua? Eh, meno no Vabbè, ok Adesso è inverno quindi probabilmente non conta neanche tanto Però giusto per essere Sicuri Ecco appunto, adesso qua dentro Si conserva bene tutto Abbiamo parecchio orzo Tipo 600 e passa di orzo Che è una buona cosa È una buona cosa, assolutamente E devo rifare anche poi la posizione dei campi Perché sempre nello scorso episodio abbiamo optato per andare direttamente solo di orzo Perché è più semplice da tenere da parte E si rovina più difficilmente rispetto alle Le carote Questi qua sono i nostri due templi adesso Dove i nostri coloni possono pregare Sono molto semplici e spartani Ma funzionano Allora ovviamente il progresso è un attimo fermato adesso Dalle Dalle strade Perché è normale Ci vorrà un po' perché le costruiscano Però ecco Vorrei sfruttare un po' di queste zone qua poi Per fare delle cose un po' più carine Fatemi vedere un po' Barley Alcune cose potrebbero essere comode Vediamo, vediamo Prima bisogna arrivare ad aver costruito tutte le strade E poi in base agli spazi che ci si sono delineati Vediamo cosa fare Perché vedete ad esempio qua non posso fare niente Uh aspettate fatemi vedere a che punto sono qua sotto Oh han finito praticamente Bene Mi serve solo qualcuno che vada a costruire a questo punto Si E poi qua sotto default stockpile Gli facciamo portare Ok Meal Tutti i pasti che volete Tutti i pasti che volete Infatti qua sotto ci sono meno 4 gradi Anche se è considerato come inside Ok Per iniziare facciamo così Nel mentre che vanno avanti con il lavoro Poi la monitoriamo e vediamo come va Si allora Diciamo che fare tutte queste costruzioni Una dopo l'altra Ci ha richiesto molti molti materiali Davvero tanti materiali E ok Hanno finito di scavare Gli dovremmo dire praticamente di continuare a scavare Ma soprattutto se costruiscono qua gli diciamo di scavare praticamente qua in fondo Il peccato è che qua c'è un casino di ferro Cioè ma proprio tantissimo ferro e sale Mentre a me serve semplicemente della stupida pietra Cioè proprio mani bassi mi serve solo pietra Quindi se mi date la pietra grazie Bene 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 E il problema è che se nevica io non vedo le strade E quindi è inutile come cosa Non vedo le strade quindi non posso costruire le strade Oh maledizione Penso di non poter fare niente No sono serio non posso farci niente Oh fuck Seriamente Senza vedere le strade io non posso fare nulla Non posso mettermi a costruire delle stanze se non vedo le strade Anche se penso che questo qua Aha No posso farlo posso farlo invece Cioè almeno le stanze penso di poterle costruire Bene Sì 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 va bene così Ah fuck un attacco Chi siete Oh the fuck Bro cos'è sta roba Oh what E attaccano pure da quella parte Oh shoot Eh va bene Eh va bene pronti ad attaccare C'è il tizio lì con quella roba Che è parecchio grosso Ma tipo parecchio parecchio grosso Uh mi sono dimenticato Di dirti winter Attaccano Ci ritiriamo qua Alma ovviamente si ritira un po' più indietro Circa qua E tu invece attacchi Ok andiamo Ok uno alla volta Uno alla volta Come avete imparato Ok Non fatevi circondare Non fatevi circondare Ok bene 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 Buono così Buono così Ok Marion Stai messa parecchio male te Sì ok Però tu stai messa parecchio male Quindi lascia che siano gli altri a fare il lavoraccio adesso Chi manca Oh aiuto Si torna indietro Bene E dovremmo aver vinto A questo punto Ah appunto Wooden Dorson Mason Bench Ok Ci hanno distrutto alcune cose Questo che cammina Tipo Big Chad Proprio Se ne va a lui Allora boys Am I down E io stavo per costruire una stanza Prima che Vabbè Va bene Ah ovviamente dovrò abbattere questa Di stanza adesso Allora Products Research table Sì Poi Research table Di questo tipo Che è diverso Chiaramente Lo mettiamo qua E Penso che possa andare così Poi Una volta che li hanno costruiti Facciamo smantellare Questa stanza E Facciamo trasportare tutti i libri Nella nuova stanza Che probabilmente sarà molto più grande Potrebbe avere anche più di un piano Magari Allora Fatemi intanto Vedere un po' qua sotto Com'è la situazione E mi stavo dimenticando una cosa Molto importante Cioè Finire effettivamente la stanza Allora Praticamente quello che Ci rimane adesso da fare In questa di cantina È finire i muri Mettere la porta E cambiare il pavimento E poi ci siamo Ferocious swarm E Sono Lupi Oh wow Siete tanti lupi Abbiamo risolto Abbiamo risolto Con solo Brinstein No come Con solo Brinstein Che ha perso conoscenza Dai Va bene Risolto Risolto Il problema Ovviamente questa diventa la carne E per quanto riguarda il tetto Glielo facciamo fare Eh come glielo facciamo fare Glielo facciamo fare Con l'alf Questo qua Come potrà sembrare Ma non male Non male Dai Sì ci potrebbe stare Cold snap Ok c'è una gelata Insomma Ce lo dovevamo immaginare Adesso avranno davvero parecchio freddo Quello sì Davvero davvero molto freddo Quindi questa qua è la libreria Perfetto Questa qua è un deposito Qua sopra Penso di poter fare un altro stockpile Esatto Me l'ha fatto fare Benissimo Eh lo facciamo anche espandere E clear all Books E penso che allora a questo punto Si possa smantellare anche questa Ok possiamo farci un po' di cose Quindi andrei per il preserving food 2 Che ci permette di fare i pasti Pacchettati Quelli sono comodi Settlers are idle Ehm Non so cosa dirti boss Oh ce l'han fatta Finalmente Forse forse adesso riusciremo Ad uscire da questo buco Letteralmente Vai Sei salva Yeee L'abbiamo salvata Madonna Che ansia Che ansia Ok Io vi direi anche Si ci siamo Siamo a un buon punto Però con l'inverno non si vede nulla E quindi non Non lo so Non si vede niente Non posso per dire nemmeno mettermi a fare A fare altro Perché oggettivamente non si può Con la neve non si capisce Adesso voglio vedere Marion che si toglie Praticamente da sotto i piedi What? Si è Si è teletrasportata Allora La situazione qua va bene Va decisamente bene Dobbiamo costruire ancora queste cose qua E mettere poi la porta Oh guardate Qua ci si è delineata Un'altra bella zona Qua invece mettiamo le erbe Oh no Rocky soil Eh vabbè Peccato Fa nulla No Avevo appena smesso i miei cari Io volevo vedere un attimo Com'era la situazione strade Perché probabilmente dobbiamo collegarle Tutte di qua ancora Oh no Oh yes Bene 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 Allora adesso Imparo un attimo dei miei errori E magari fermo il tempo Copy E andiamo a mettere giù Gli ultimi progetti di strade Anche qua è posizionata Bene Aha E' di qua la situazione strade Che deve essere ancora finita Va bene Questo qua è il weaker floor Hmm Ecco così ci si delineano Molti più spazi Molti molti più spazi Anche per dire qua Possiamo mettere Hmm Altri Altre coltivazioni Bene Qua costruiranno adesso pian piano Ma ci siamo Si va bene lupi Ok Allora dato che Eh Ok Dato che è bene o male Abbiamo terminato anche con le strade Tra virgolette Perché poi Bisogna costruire altre strutture Quindi le strade dovranno essere espanse Ci spostiamo adesso alla nuova fase Che sarà quella della La difesa Dopo la difesa Ci armeremo meglio E a quel punto poi sarà una questione Forse di costruire un forte Magari Non lo so Un forte un po' più lontano dal villaggio E immagino che vedremo Io a questo punto direi che termino qua Vi ringrazio davvero tutti tantissimo Per avermi seguito Vi invito a lasciare un bel mi piace E un commento Dicendomi cosa ne pensate di questo episodio E come al solito Se volete aggiungere qualcosa Se volete darmi un parere sulla serie Fatelo qua sotto nei commenti Ogni feedback è davvero apprezzato Io vi ringrazio ancora per la visione Sono Gold E noi ci vediamo con i prossimi video Bye bye